In volo con voi è un salto, è voglia di essere... Una vittoria netta di Padova su Verona, si aspettava una prestazione da parte dei suoi di questo tipo? Prima della partita ci sono sempre tanti pensieri, è difficile fare pronostici. Pensavamo di poter giocare una buona gara, abbiamo giocato una gara che ha resentato lo straordinario per lunghi tratti. Quindi niente, siamo molto contenti, complimenti ai ragazzi che hanno fatto una partita straordinaria. Adesso per Padova, guardando anche gli altri campi, i play-off sembrano essere ormai una certezza. Sì, non lo so, gli altri campi cosa sta succedendo, comunque questi sono tre punti importanti. Adesso per Padova come si affronteranno le prossime partite, con più intensità o con una maggiore leggerezza psicologica? Sicuramente con una grande intensità, dal punto di vista psicologico è chiaro che siamo molto contenti di come stiamo giocando, dei risultati che abbiamo ottenuto, però dal punto di vista dell'intensità non ci piove che daremo il massimo fino alla fine per cercare di portare a casa tutto quanto possibile. In volo con voi è un saldo, è voglia di affrontare... Grazie!